Siamo arrivati quasi al termine di Successful Presentation. È il momento del piano d'azione, il vostro piano d'azione, il quale dovrebbe puntare a farvi diventare dei presentatori straordinari. Può suonare un po' ambizioso, ma sono sicuro che è realistico. In vent'anni che tengo seminari di public speaking ho incontrato centinaia e centinaia di persone e l'ho visto, ho visto che ognuno di noi può diventare un presentatore eccezionale. Si tratta solo di crederci, di fare esperienze e di migliorare ogni volta un pochino. Come farlo? Cosa fare a partire da domani? Beh, abbiamo visto precedentemente che possiamo leggere dei libri, possiamo guardare presentazioni di altri, sia online che presenziando di persona, ma un'altra cosa che secondo me dobbiamo fare è quella di seguire un concorso.